Mezzanotte 22, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. In primo piano l'aumento vertiginoso del prezzo della benzina, in crescita da 16 giorni consecutivi e che secondo una stima di assoutenti la tassazione sui carburanti frutterà allo Stato oltre 2 miliardi di euro. Il ministro Urso sostiene che siamo i meno cari d'Europa se depuriamo il costo del carburante delle accise. Intanto sul caro voli dopo Ryanair scende in campo l'Associazione Europea delle Compagnie Aeree che chiede chiarimenti alla Commissione UE sul decreto del governo italiano. Sentiamo. Care le vacanze per milioni di italiani quest'anno, ad aggiungersi la stangata sulla benzina. Negli ultimi 16 giorni il prezzo medio per il carburante è schizzato a oltre 2 euro al litro. Secondo il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso il fenomeno del caro benzina sarebbe falso perché il prezzo depurato da accise IVA sarebbe inferiore a quello di paesi come Spagna e Germania. Ma assoutenti non ci sta. Sarebbero proprio queste due tasse a pesare per oltre il 50% sul costo di benzina e gasolio. Più della metà del prezzo del carburante andrebbe nelle tasche dello Stato. Un gettito che fa i conti assoutenti solo per gli spostamenti estivi ammonta oltre 2 miliardi. Intanto, nell'estate del caro prezzi, l'associazione che riunisce le principali low cost europee ha scritto alla Commissione di Bruxelles per capire se il decreto Meloni dello scorso 8 agosto che limita i prezzi delle rotte, specialmente con le isole, sia in linea con il diritto comunitario e con le norme sulla concorrenza. Il ministero del Made in Italy, che a settembre avrà un incontro con rappresentanti delle compagnie aeree, si è detto pronto a rispondere a tutti i quesiti della Commissione e ribadisce che la sua iniziativa è in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori di fronte a fenomeni speculativi o distorsivi del mercato. Nel secondo trimestre frena l'economia italiana pil in calo dello 0,3% dopo il rialzo dello 0,6% del primo trimestre. Nell'Eurozona il prodotto interno lordo è invece cresciuto dello 0,3% dopo il valore invariato del primo trimestre. E' quanto emerge dalla stima flash di Eurostat, notizie non positive neppure da Banca Italia. Nel secondo trimestre il prodotto interno lordo dei paesi della zona euro è cresciuto dello 0,3% sbloccando così la battuta d'arresto registrata nei primi tre mesi dell'anno. Nonostante l'entità decimale del PIL è il segno più a confortare che però per quanto riguarda l'Italia si trasforma a cifre immutate in un segno meno. Perde infatti esattamente 1,0,3% nello stesso periodo dell'anno la nostra crescita nazionale. In ogni caso il dato continentale fornito da Eurostat non è sufficiente a lasciar ben sperare per i mesi a venire. Guardando alla ripresa autonale gli investitori europei sono concentrati sulla possibilità di un altro aumento l'ennesimo dei tassi di interesse da parte della BCE. L'inflazione di base nell'eurozona a luglio infatti non è ralentata come previsto da Francoforte. I dati economici tedeschi confermano una Germania in prospettiva ancora debole e adesso anche l'Olanda secondo Eurostat è entrata ufficialmente in recessione. Tornando a noi col meno 0,3% l'Italia da prima della classe per tasso di crescita europeo scivola così al penultimo posto prima solo dell'Austria. migliora l'andamento di Francia e Spagna con un più 0,5% e un più 0,4%. Ma invece il dato della Banca d'Italia sul debito pubblico è impressionare di più. A giugno è aumentato di 27 miliardi e 800 milioni di euro rispetto al mese precedente fissandosi a 2.843 miliardi. E questo nonostante gli oltre 38 miliardi di entrate tributarie in aumento del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2022. La guerra in Ucraina, Kiev rivendica per la prima volta gli attacchi al ponte di Crimea del luglio scorso. Oggi la CNN ha pubblicato un video con cui i servizi di sicurezza di Kiev rivendicano l'azione con droni marini dello scorso 17 luglio. Intanto una nave porta container lasciato al porto di Odessa è il primo cargo civile a utilizzare il nuovo corridoio umanitario annunciato da Kiev dopo che Mosca è uscita dall'accordo sul grano. Mentre a Mosca è stato messo ai domiciliari, il generale Sergei Surovichin, ritenuto vicino al capo del gruppo Wagner, era scomparso dopo la marcia di Mosca su Mosca organizzata da Prigojin il 24 di giugno. Torniamo in Italia con la cronaca, con due tragedie che hanno visto protagonisti due giovanissimi annegati nel lago di Bolsena in un torrente in provincia di Lecco. Un'imprudenza fatale per chi non ha dimestichezza con il nuoto e con le insidie dei laghi e dei fiumi. Sono morti così un ragazzo di 20 anni che si era tuffato nel lago di Bolsena e una bambina di 11 anni sparita in acqua mentre faceva il bagno con due sorelle e un'amichetta davanti alla foce del torrente Meria sulla sponda lecchese del lago di Como in Lombardia. Erano entrambi di origini senegalesi e non sapevano nuotare. Il corpo senza vita della bambina è stato ripescato dopo molte ore di ricerche dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Si trovava a 5 metri dalla riva. La bambina è stata tradita dal fondo memmoso del lago. Alcuni bagnanti sono intervenuti in soccorso riuscendo a mettere in salvo le sorelle più grandi e un'altra bambina ma per la piccola Fatu Tiao, residente a Bulciago in provincia di Lecco, non c'è stato nulla da fare. Anche a Bolsena il ragazzo senegalese che viveva a Viterbo è sparito dopo un tuffo dal pedalò a pochi metri dalla riva. I sommozzatori hanno ripescato il corpo del giovane dopo una giornata di ricerche. Ricerche che invece non hanno ancora avuto successo in Trentino, nelle acque del fiume Sarca dove è scomparso un altro ragazzo di 24 anni, di Verona. Insieme con un gruppo di amici per passare il ferragosso si era sistemato in una spiaggia non lontano dalla centrale idroelettrica Fies di Dro. Dopo il tuffo non è più riemerso. Impegnati nelle ricerche, oltre ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trento, i volontari di Dro e il personale del soccorso alpino. La scomparsa di una delle più grandi voci della lirica del Novecento, la soprano Renata Scotto. Era originaria di Savona, si è spenta la notte scorsa ad 89 anni nella sua casa di New York. Milano-Londra è proprio New York. Nella sua lunga carriera Scotto ha calcato i teatri più prestigiosi al mondo con oltre 300 ruoli interpretati da Violetta nella traviata La Madama Butterfly. La notorietà arrivò nel 1957 quando sostituì in scena Maria Callas nella Sonnambola a Edimburgo. Perdo una carissima amica e una delle più grandi cantanti liriche di tutti i tempi, il commento del maestro Plasido Domingo. Era l'ultima notizia, vi lascio al film. Buon proseguimento. Buon proseguimento.